Abbiamo concesso delle cose che a dei giocatori così, a una squadra così non puoi fare, però dicevo prima nel complesso io ritengo la prestazione dei miei giocatori positiva. Gli rimprovero forse un 20-25 minuti del primo tempo all'inizio dove eravamo un po' timorosi, tutubanti, dovevamo forse accorciare un po' di più in avanti, prendere un po' più di iniziativa e forse avremmo fatto qualcosa di meglio. Però nel complesso è un risultato che ci può stare, che non ci penalizza più di tanto, nel senso che dopo la buona prestazione di domenica e venire qua a giocare in questa maniera poi sapevamo che non era facile. Però, ripeto, non rimprovero niente ai ragazzi, faccio i complimenti al Teramo perché secondo me la squadra è la struttura che merita di vincere questo campionato per lo stadio, per la tifoseria, per la società che ha e per il mister. Quindi direi più che meritato se questo campionato finisce al Teramo. C'è da sottolineare il grande stato di tensione che c'è stato durante questa partita, sia per la posta in paglio che per l'ultimo episodio, nel senso delle ultime partite dove noi avevamo perso e dove tutte le cose che avevamo fatto le avevamo messe in discussione, tutte le cose buone che avevamo fatto fino a questo momento. Di conseguenza c'era tanta tensione che non ci ha permesso di esprimerci come facevamo due o tre mesi fa. È un periodo dove al primo soffio di vento noi prendiamo gol o ci mettiamo in difficoltà da soli. Forse questo è il nostro destino, però il fatto che noi abbiamo vinto e che abbiamo ancora intatte le speranze di poter vincere questo campionato. Anche perché manca un punto, questo punto è veramente vicino al traguardo. Sì, sì, però anche prima mancava una vittoria e sembrava che fosse tutto fatto, però come si è sempre detto il campionato si vince quando la matematica te lo permette e noi tutti abbiamo sempre tenuto alto il ritmo mentale per poter poi arrivare alla partita e farla bene. È chiaro che un po' siamo calati, come ho già detto, e un po' siamo stati sfortunati, però questa squadra sempre... Grazie.